Buongiorno a tutti, siamo arrivati a regerazione, siamo arrivati alla resa dei conti, ma come? Fino a non settimane, non mesi, qualche giorno fa, per il nostro Presidente del Consiglio, la risposta alla situazione era ampiamente sotto controllo, tendenzialmente verso il rosa. La nostra economia ha retto, i nostri conti sono in ordine, non metteremo le mani in tasca agli italiani e quindi tutto a posto. Ora si è scoperta all'improvviso una voragine, una voragine che l'Unione Europea sta chiedendoci, ci sta imponendo di colmare, perché i nostri conti sono alti fuori delle regole di mastiche e di tutto il resto. E allora a questo punto mi pongo una domanda, anzi due. Era il nostro Presidente del Consiglio al corrente della vera situazione dell'Italia ed il suo era un parossistico ed esagerato ottimismo finalizzato non si sa bene a che cosa. In questo caso c'è un'esagerazione nella ricerca di questo ottimismo, direi anche una colpevolezza in questo senso. Oppure non era al corrente, ma non erano correnti. E allora? E allora che ci sta a fare? Ma ditemi voi, noi abbiamo vissuto operando con le promesse mancate, con leggi adepersonam, con situazioni stravaganti, con ci cerca imbavagliamento della stampa, con situazioni da ridere se non ci fosse da piangere, all'improvviso si scopre che l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica appunto, così è il dell'absus, tutti comunisti. Oggi siamo tutti comunisti che l'Unione Europea ci ha tirato le briglie e ci ha detto, veloce, in maniera completa, esaustiva, di ritornare sui vostri conti e nei vostri tre famosi percenti. Arrivederci.